Buonasera a tutti, ciao ragazzi, scusate il ritardo, sono arrivato un po' in ritardo oggi ma volevo fare il punto la situazione è fatto bene perché oggi potrebbe essere un momento chiave, un momento importantissimo, quasi storico per il calcio così come lo conosciamo. Perché? Perché a 22 ha rilasciato questi 10 punti per un campionato europeo di calcio tradotto 10 principi sui quali dovrebbe appoggiarsi la nuova Superlega perché il progetto Superlega non è stato interrotto, è più vivo che mai e in questo momento sembra essere proprio nel vivo. Ok? E quindi si sta cercando di capire se effettivamente potrà venire fuori qualcosa di concreto, di effettivo a livello Superlega. Non credo che sia ancora la giornata definitiva perché comunque non abbiamo avuto riscontri, non abbiamo avuto conferme, non abbiamo avuto un annuncio vero e proprio come era stato un paio d'anni fa quando di notte avevamo visto il sito della Superlega andare online però sicuramente qualcosa si è mosso. Infatti leggiamo Madrid 9 febbraio 2023, A22 Sport Management, società europea per lo sviluppo commerciale dello sport, ha reso noti oggi i risultati preliminari di un ampio dialogo con gli stakeholder di tutta Europa sul futuro del calcio per club. E quindi l'amministratore delegato di A22 ha affermato che i club si assumono tutti i rischi imprenditoriali ma troppo spesso sono costretti a rimanere in disparte quando vengono prese le decisioni chiave e si ritrovano ad assistere allo sgretolamento delle loro fondamenta sportive e finanziarie. Quindi ci sono stati questi colloqui con quasi 50 club europei e si è giunti proprio alla conclusione che effettivamente le società si assumono i rischi dal punto di vista degli investimenti e poi quando è ora di prendere decisioni vere e proprie non hanno potere. A riguardo attenzione che quella di oggi è una conferma forse che non serviva o forse sì di un vero e proprio dibattito politico all'interno del mondo del calcio con diverse realtà su tutte Italia e Spagna che si sono rese conto di essere terribilmente più indietro rispetto al calcio inglese che poi ha risposto in un altro modo ma cerchiamo di vederlo. Voglio commentare insieme a voi i dieci punti perché il primo e forse non è un caso che sia il primo è competizioni su base ampia e meritocratica. Questo è stato uno dei punti più oscuri per quanto mi riguarda della Superlega perché io ero molto attratto dall'idea di un nuovo campionato, di una nuova competizione in grado di raccogliere le squadre più importanti, le squadre più forti, i campioni più rinomati all'interno del mondo del calcio e affrontarli all'interno di diverse partite che poteva diventare di cartello quasi completamente, quasi sempre, però c'era sempre quel punto ed era la meritocrazia. La meritocrazia non poteva venire meno durante la nascita di una nuova competizione. E a 22 come primo punto mette competizione su base meritocratica. Il campionato europeo di calcio deve essere una competizione aperta, con più divisioni e da 60-80 squadre che consentono distribuzione sostenibile dei ricavi lungo tutta la piramide. Ora, dobbiamo capire perché ancora sono soltanto punti, non sono regolamenti, non abbiamo la competizione, non abbiamo niente, però si parla di piramide, con i ricavi suddivisi lungo la piramide. Quindi vediamo cosa succede, sicuramente è stato ampliato questo discorso e sono state inserite più squadre. Ovviamente una competizione sportiva per quanto mi riguarda deve sempre appoggiarsi su una base meritocratica. che era uno dei punti secondo me più oscuri relativi alla Superlega, secondo me è necessario fare qualcosa per cambiare il calcio, giunti a questo punto. La Superlega poteva essere questa cosa, può ancora essere questa cosa perché ci stanno ancora lavorando, ma doveva inserire una base un po' più meritocratica. Sicuramente questo è un passo avanti e secondo me non ancora definitivo perché non credo che ci debba essere un numero predefinito di squadre all'interno della competizione, o che possono potenzialmente entrare all'interno della competizione, sicuramente questo è un passo in avanti. Tornei nazionali, la base del calcio e quindi dicono non è che se fai a partecipare a un campionato europeo di calcio devi per forza di cose poi rinunciare a quello che avviene entro i confini nazionali. Tradotto, se nascerà la Superlega, se Juve, Inter, Milan o quelle che saranno entreranno effettivamente all'interno di questa competizione, non è che poi non vanno più a giocare il campionato di Serie A, quello rimane assolutamente. Migliorare la competitività con risorse stabili e sostenibili è quello che dicevano prima, i club poi si assumono i rischi degli investimenti e poi quando è ora non hanno la possibilità di mettere voce in capitolo per le cose veramente importanti. Quindi migliorare la competitività, offrire uno spettacolo sempre più competitivo al pubblico che quello che poi tira fuori i soldi e lo stiamo vedendo anche oggi, perché col discorso delle disdette Sky e Dazon abbiamo avuto anche delle smentite. C'è chi parla di mezzo milione di disdette, chi parla di soltanto 6.000, però intanto i broadcaster si stanno muovendo. Dazon e Sky stanno facendo dei sondaggi per capire perché il pubblico va a effettuare la disdetta. La zona addirittura sta facendo delle offerte con un vincolo annuale decisamente a ribasso quando in realtà c'era stato un aumento dei prezzi soltanto un mese fa. Qualcosa vorrà pur dire, il pubblico, il tifoso, quello che poi mette il soldo ha ancora potere e ha sempre potere perché non ci può essere uno spettacolo senza il pubblico. E quindi per forza di cose i club devono anche assumersi questi rischi, queste possibilità e forse il calcio di oggi non è più pensato per questo. Quindi le squadre sono fortemente interessate nel cercare una via d'uscita da questo punto cieco, da questo vicolo cieco punto un po' anche qua oscuro per quanto riguarda il calcio di oggi. La salute dei calciatori deve essere al centro del gioco e questo è uno dei punti sul quale la Superlega andava ad appoggiare. Si giocano troppe partite in un anno, qualcosa bisogna pur fare, non bisogna spompare i calciatori con tutte queste partite e questo è uno dei punti, dei principi, dei dieci principi rilasciati oggi da A22. Competizioni gestite dai club con regole di sostenibilità finanziaria trasparenti e applicate adeguatamente. Secondo me anche qua sarà necessario cercare di fare una sorta di regolamento generale per le squadre che poi andranno a partecipare a questo campionato, non che ogni federazione abbia delle regole differenti. Faccio un esempio, la Liga che oggi ha il limite autoimposto sugli ingaggi, le altre squadre no. In Francia il PSG di turno, in Premier League il Manchester City di turno o il Chelsea di turno può offrire gli stipendi che vuole. In Spagna sono costretti a non rinnovare Messi perché non c'è più spazio salariale per il giocatore che si accasa gratuitamente al PSG. Ci sono cose che sono un po' fuori binario per quello che dovrebbe essere il calcio a 360 gradi equo e meritocratico in tutta Europa all'interno di una competizione dove poi le squadre vanno ad affrontarsi. La miglior competizione calcistica del mondo? Oggi, secondo me, la miglior competizione calcistica al mondo è la Champions League, più del mondiale. La Champions League ha un livello più alto del mondiale perché si parla di club, si parla di giocatori che quotidianamente si allenano, si parla di club che quotidianamente investono, di club che quotidianamente mettono in esposizione infrastrutture agli allenatori e ai giocatori, quotidianamente si lavora per questo. Quando si va in nazionale non c'è tempo per fare queste cose e quindi ovviamente prendi un po' quello che c'è, te la lavori e ovviamente anche mondiale ed europeo e Coppa America si giocano nel giro di un mese. Quindi invece i club hanno una durata di 6, 7, 8 mesi durante l'anno. La miglior competizione calcistica al mondo oggi è la Champions League. Però, attenzione, perché come diceva proprio a 22 all'interno del comunicato, nei prossimi mesi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si pronuncerà sulla legalità e sulla compatibilità del monopolio UEFA con il quadro della libertà, dei principi e dei valori fondamentali che sono alla base dell'UE. La loro decisione avrà un impatto non solo sul mondo del calcio, ma di tutti gli sport europei. Quindi attenzione che sì, oggi la miglior competizione calcistica è la Champions League, ma nei prossimi mesi potremo avere delle novità molto molto importanti. 7, miglioramento dell'esperienza dei tifosi. E' quello che vi dicevo prima, attenzione, ricordatevi sempre che noi siamo il fulcro, noi siamo la cosa più importante all'interno del mondo del calcio. Ci potrà essere il calciatore più forte del mondo, più allenato del mondo, con più talento del mondo, naturale, quello che volete, ma non potrà mai fare niente senza un pubblico. Quindi l'esperienza dei tifosi deve essere messa al primo posto. Forse addirittura il punto 7 è abbastanza indietro all'interno di quello che dovrebbe essere. 8, sviluppare e finanziare il calcio femminile, che è un altro dei punti molto importanti. Già in Italia quest'anno abbiamo riconosciuto il calcio femminile come uno sport a livello professionistico ed è stato già un passo in avanti. Siamo sicuramente nel mondo, a livello europeo, a livello italiano, quello che volete, indietro da questo punto di vista, ma il calcio femminile è in forte sviluppo ed è giusto che sia uno dei dieci principi inseriti. 9, un aumento significativo della solidarietà. La solidarietà di base è un pilastro essenziale del calcio europeo e dovrebbe essere aumentata ben oltre i livelli attuali. Come annunciato in precedenza, l'importo minimo di 400 milioni all'anno è il club non partecipanti per la solidarietà di base e le cause sociali. Qua entriamo in alcuni argomenti non di mia competenza, quindi qua vorrei fare un passo indietro perché non ho ben idea a questo punto quali altri punti voglio andare a toccare. Ve l'ho letto per dovere di cronaca, ma non conosco esattamente. Numero 10, rispetto del diritto e dei valori dell'Unione Europea. Il calcio europeo e i suoi stakeholder sono chiamati ad abbracciare i valori e le regi e la libertà fondamentali dell'UE. È quello che leggevamo un po' prima e quindi questo ultimo punto, se vogliamo, è una specie di frecciatina alla UEFA e a quello che sta avvenendo da anni a questa parte, a questa nascita della Superlega che è stata forse rimandata anche, tra virgolette. Però attenzione che non è l'unica cosa che è accaduta oggi perché ci sono stati questi punti e poi FSA ha risposto. Chi è FSA? Football Supporters Association, il mio inglese proprio di livello, chi ha rilasciato appunto una sorta di appunto, gioco di parole, dove non sono proprio d'accordo con quelli che sono i principi, i dieci principi che abbiamo letto adesso, che abbiamo commentato adesso. Potete tradurvelo tranquillamente. La cosa che mi fa ridere e per la quale ho voluto pubblicare ovviamente questo statement non è tanto il contenuto, che quello è condivisibile oppure no, ognuno ha diritto ad avere una sua idea di fondo, ma dato che non sono d'accordo e tutte queste cose, e poi mi viene da ridere andare in basso all'interno della stessa notizia dove posso trovare che i Founding Partners sono la Football Association, quindi praticamente la lega inglese di calcio, la nazionale di calcio inglese, e la Premier League FanFounds. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte al calcio inglese che ti dice, attenzione, la Superlega può essere un danno, attenzione, la Superlega va a toccare dei tasti che non andavano toccati, attenzione, che se facciamo questa cosa poi potremmo pentircene. Mi ricordo un po' i tifosi del Chelsea, con i cartelli in mano, con scritto la Superlega uccide il calcio, il calcio di tutti, il calcio del popolo, stessa squadra all'interno della stessa competizione che dice, attenzione, a fare certe cose che poi possono permettersi di spendere 300 milioni nel mercato invernale, quando invece tutte le altre squadre, come dicevamo prima, secondo me appunto Italia, Spagna così, hanno capito che non c'è più modo di andare avanti da questo punto di vista. Non significa, attenzione, non significa che abbia ragione a 22, abbia torto la Premier League, non significa assolutamente questo, perché come dicevo in qualche video precedente, secondo me se Premier League è riuscita dal 92 ad oggi a fondare quello che ha fatto, a far investire i vari Avramovic, tutti quelli che sono arrivati all'interno del calcio Manchester City, tutti questi signori, questi fondi pieni di soldi sono riusciti ad andare ad investire, sono riusciti a creare questa Lega, hanno dei grossi, grossissimi meriti, assolutamente dei meriti, assolutamente. Dall'altra parte, lo stesso discorso che facevo l'altro giorno, citando sempre Caressa, all'interno di un sistema in cui i soldi poi sono destinati ad uscire, questo sistema è destinato a crollare, perché? Perché i giocatori hanno degli ingaggi molto elevati, le quote che vengono rilasciate anche solo agli agenti dei calciatori sono destinate ad uscire da questo sistema, non vengono reinvestiti, quindi la prospettiva è che la Premier League a un certo punto possa crollare su se stessa un po' come è accaduto alla Serie A, poi è ovvio che in Serie A quando c'erano i Moratti, quando c'erano i Berlusconi che investivano all'interno delle squadre, era una cosa, quando sono venuti fuori e sono arrivati altri proprietari per le squadre di club maggiori che non hanno investito gli stessi soldi, si è un po' sgretolata la competitività interna della Serie A, credo nemmeno che sia un caso che la Juventus poi sia uscita, abbia vinto diverse scudette consecutivi, non dimentichiamoci, Juventus ha inserito 700 milioni di aumento di capitale negli ultimi anni, Juventus ha sempre inserito all'interno del sistema Calcio Italia diversi denari liquidi e questo va anche un po' a completare i discorsi che si stanno facendo in questi giorni, lato Plus Valenze, lato Juventus, lato tra virgolette lotta tra Federazione Italiana Gioco Calcio, Juventus e tutto quello che ne deriva da tutti questi discorsi che in questo momento vengono affrontati per forza di cose. Questo non è sicuramente il mio campo, io posso soltanto dirvi che secondo me una botta al calcio mondiale, al calcio italiano, al calcio europeo serve, una modifica, uno scossone, un terremoto serve, anche se un'idea di dialogo con la UEFA per cercare di ascoltare le richieste dei club che in questo momento sono obbligati, gioco forza, a partecipare a quel torneo perché oggettivamente quello oggi è il torneo migliore in assoluto lato calcio, non credo che sia giusto un discorso di monopolio per un calcio europeo, credo che ogni squadra abbia diritto a scegliere se partecipare a una federazione oppure un'altra, non credo che sia logico che ci sia soltanto una competizione alla quale partecipare perché così sì, punto e basta, credo che sia necessario ascoltare veramente le esigenze anche degli altri campionati diversi dalla Premier League che non sono stati in primis così bravi a creare quello che ha creato la Premier League. E in seconda battuta quello che ha trascinato le altre leghe, perché meno male in questo momento a parte la lega inglese abbiamo tutte delle leghe di serie B, nessuna squadra né del campionato italiano né del campionato francese né del campionato tedesco, ovviamente ci sono i vari PSG Bayern Monaco che sono le mosche bianche, ma tutte le altre squadre all'interno di tutti questi campionati, il campionato portoghese e il campionato belga, non sono in grado di competere con la Premier League, ma banalmente nemmeno il Bayern Monaco per dire non ha quel potere d'acquisto e nemmeno quella filosofia probabilmente di andare a fare quel tipo di investimenti. La Juventus per anni ci ha provato e si è chiusa su se stessa, ci sono stati tanti errori, ne abbiamo già parlato, ho fatto un video in cui spiegavo quelli che secondo me sono stati anche i tanti errori della dirigenza bianconera. Però qualcosa si sta muovendo, il calcio così come lo conosciamo da un momento all'altro potrebbe subire questo scossone, Juventus, Real Madrid e Barcellona sono ancora all'interno della Superlega, lavorano per cercare di modificare i punti sostanziali e cercare di far entrare altri club all'interno della Superlega che come primo punto in questo momento ha la meritocrazia, che era la cosa che mi dava più fastidio in assoluto perché non si può creare un sistema chiuso, il sistema deve essere aperto, deve permettere l'ingresso anche a squadre che hanno il diritto di sognare di andare a giocare quella competizione, di vincere quella competizione un giorno, ingaggiare quei giocatori e forse qua torniamo al punto che non ho voluto commentare ma semplicemente perché in questo momento non l'ho capito esce da quelli che sono i miei interessi e le mie competenze. Quindi da un momento all'altro tutto potrebbe cambiare. Attenzione che da un po' si mormora che pubblicamente alcuni club siano usciti dalla Superlega come Inter, Milan appunto, le squadre inglesi, mi pare l'Atletico Madrid, comunque altre squadre che hanno rinunciato perché la UEFA aveva fatto delle minacce, aveva detto che, ma che effettivamente sotto sotto dopo la nota usciamo dalla Superlega non sia effettivamente poi stato firmato il contratto di disdetta anche perché potrebbero essere associate delle penali. Qua siamo tutto nel campo delle ipotesi, delle cose dette e non dette, però era giusto, secondo me, sottolinearle. E quindi vi chiedo, secondo voi questi punti sono stati rivisti dove dovevano essere rivisti? Avete un'altra idea della Superlega rispetto a prima? Credete che sia necessario muovere qualcosa dal punto di vista economico, finanziario eppure di gestione? Entrano nel calcio mondiale? Secondo voi è giusto così? Siamo proprio nella fase in cui possiamo discutere non c'è la competizione, non è stata annunciata, non si sa se inizierà, quando inizierà, chi ci sarà dentro, come si svolgerà, non sappiamo ancora niente. Abbiamo soltanto questa lista di principi e siamo in attesa di capire se è giusto o se è sbagliato che UEFA sia una sorta di organo univoco di monopolio all'interno del calcio europeo. Intanto a 22 mi ha detto nel caso noi la competizione la vogliamo fare, questi sono i principi sui quali ci vogliamo appoggiare e sappiamo che ci sono dei club interessati all'argomento e sono interessati al progetto. Quindi davvero, adesso possiamo dire tutto quello che vogliamo perché ancora non c'è niente, però eppur si muove, qualcosina dai. Grazie. Grazie.